La tecnica è quella classica, esplosivo all'interno di una macchinetta self-service ed il furto di tabacchi, merendine e bibite. Questa volta ad essere preso di mira non è in effetti un bancomat, ma un'attività di via Cassel del Monte Accorato, un'attività commerciale di tabacchi ed altri generi alimentari confezionati. Il video delle telecamere di sicurezza riprende tutto e mostra la freddezza e la rapidità dei malviventi che poco dopo, la mezzanotte, il primo giorno dell'anno e tra le strade festanti, hanno pensato bene di assaltare proprio il self-service. Sull'accaduto è stata asporta immediata denuncia da parte dei titolari dell'attività commerciale Coratina ed indagano i carabinieri di Corato.